Ciao ragazze e ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi sono felicissima, ma veramente sono felice C'è un pubo in qua Cioè amore a mamma, ma mamma deve fare il video Vieni, vuoi venire? Vuoi venire? Vieni Vieni Cioè io non lo so, cioè lei davvero è voluta venire qua per salutarvi Cioè incredibile La finisci di essere la protagonista? E che si mangia luci da labbra? Quindi salutiamo tutti i nostri amici velocini Anche tutti i bimbi, perché lei è il cane dei bimbi Amo tutti i bimbi, è vero? Ciao a tutti Adesso vuoi fare il video a mamma? Vabbè Comunque ragazze tra un po' ce ne avrò uno qua e uno qua Quando farò i video Allora in pratica ragazze in questo video Io vi devo fare un aggiornamento Allora in tutto metto il silenzioso nel cellulare Perché non voglio stressarvi con questi trillini che arrivano sempre Come state? Voi come state? Allora un po' che non faccio un video con voi Chiacchierando, dandovi aggiornamenti Ci ho qua tutte delle domande che una ragazza mi ha mandato Presi spunto da dei video stranieri Che fanno questi update sulla gravidanza Perché voi mi fate sempre un sacco di domande Qua è fatto proprio carino perché c'ho un sacco di domande Anche molto curiose, particolari Quindi adesso vi risponderò a tutte queste domande Che sono poi quelle che voi mi richiedete di più E vi voglio dare anche un po' di consigli su prodottini Su cose con cui io mi sto trovando bene Poi ovviamente voi lasciatemi nei commenti Se avete altri dubbi, altre domande Che io periodicamente faccio questi video a podetti Adesso vi faccio vedere anche il mio pancione Che è veramente esploso Anzi tutto vi voglio consigliare i prodotti che io sto prendendo Per cercare di rimanere in forma O comunque per cercare di prendere il peso giusto che ci vuole Adesso vi darò anche quanto peso ho preso e tutto E soprattutto per combattere ritenzione cellulite Che veramente in gravidanza i miei ragazzi sono proprio un dilemma Sbagliature cellulite e ritenzione sono veramente un dilemma Quindi voi non dovete avere vergogna né paura Di mostrare le vostre panze e panzone Andate al mare, fate tutto quello che dovete fare Non vi vergognate E mi raccomando ragazzi Perché comunque è un momento naturale della nostra vita Ma anche se siete comunque in sovrappeso E non siete incinte Questo discorso vale per tutte Cercate sempre di migliorarvi Ma accettatevi E non vi create problemi Perché addirittura sento ragazze che mi scrivono Io non andrò a mare perché non piace il mio corpo Perché ho la cellulite, perché ho la ritenzione Ragazze, fregatevene Io adesso vi dico io come faccio i miei consigli Perché fortunatamente sto riuscendo a gestirla Rispetto all'inizio gravidanza Ho notato che ho di meno ritenzione cellulite Grazie a questi prodotti Quindi ve li consiglio Però mi raccomando Non fatevene un problema Che vi deve ostacolare la vostra vita Mi raccomando Siete belle anche con un po' di cellulite Anche un po' di cellulite Siete belle, non vi preoccupate Allora, innanzitutto Io mi sto bevendo il peach tea Questo buonissimo Allora ragazze, questo è il tè alla pesca Proprio, avete presente il tè alla pesca Quello che vendono Però è pieno di zuccheri Questo è uguale Io lo bevo freddo Però ha un potere snellante Snellente e drenante Non sapete quanto mi sto trovando bene Ed è il nuovo uscito in casa Fitvia Sto bevendo ogni giorno Mi sta drenando un sacco Mi sta sgonfiando le gambe Vedo proprio la pelle Con meno, sapete Meno ritenzione Meno buccia d'arancia Quindi questo ve lo straconsiglio E ve lo straconsiglio Perché ragazze Ci sono i saldi Su sito Fitvia Quindi dovete assolutamente Approfittare C'è il 35% Di sconto Su tutto il sito Mi sono fatta Anche io Un super rifornimento Risparmiate tantissimo Quindi fate scolta Proprio adesso In vista dell'estate Del mare Poi questi tè Sono buonissimi Da bere freddi Vi fate un super ordine E risparmiate Se spendete Almeno 54 euro Con il codice Carlitasal Di 35 Averete il 35% Di sconto Su tutto il sito Se però Spendete di meno Di 54 Con questo stesso codice Avete il 30% Quindi ragazze Qualsiasi cifra Volete spendere Ovviamente Vi consiglio di fare Un bel rifornimento Perché Non solo perché Se superate 54 euro Di spesa Avete il 35% Di sconto Ma anche perché Risparmiate tantissimo Cioè Se prendete tante cose Veramente vi conviene Fate una scorta Anche per l'estate Per settembre Vi dura un sacco Sta roba E risparmiate un sacco Quindi vi consiglio Di approfittare E vi consiglio Il set che c'è Che è quello Per le mamme Mamma slim set Voi mi chiedete sempre Quali prodotti Difittiva Vi consiglio Se siete incinte Se siete in allattamento Eccetera Allora c'è il set Mamma slim set Che ha Il coconut Che è buonissimo Ha lo strawberry Che è buonissimo Questi li potete bere Perché non hanno Caffeina E quello È scontato Risparmiato Perché con questo codice Avete il 35% Di sconto Non pagate neanche Le spese In più Se non siete incinte Non siete in allattamento Vi consiglio Assolutamente Di prendere Le slim caps Day and night Quelle caps Sono buonissime L'ho sempre prese Adesso sono incinta No Però le prenderò Comunque dopo l'allattamento Dopo di tutto Perché veramente Sono fenomenali Quelle sono caps Snellenti Alla garcinia Che veramente Vi fanno perdere peso Quindi se non siete incinte Non siete in allattamento Prendete anche le caps E prendete anche Il chocolate Questo è buonissimo E ve lo straconsiglio Perché questo Vi accelera il metabolismo Quindi come spuntini Merenda Spezza fame Perché questo vi sazia E vi accelera il metabolismo Quindi voi ve lo preparate Qua dentro Con un po' di latte vegetale Un po' di cubetti di ghiaccio Scegherate Vi viene un frullato Buonissimo O ad esempio Doposcene Insomma A qualsiasi momento Voi volete Avete voglia di dolce Però volete stare in forma Perché ovviamente è dietetico E se lo sostituite al pasto Due o tre volte a settimana Ad esempio Invece della cena O del pranzo Magari sapete che la sera Dovete andare a cena fuori Quindi lo prendete a pranzo Veramente vedete I chili sulla bilancia A diminuire Quindi se siete in sovrappeso Vi straconsiglio questo sistema Veramente un sistema ottimo Allora Con questi prodotti ragazzi Sto veramente tenendo a bada E sconfiggendo La cellulite La ritenzione Quindi assolutamente Ho detto no Lo devo dire alle ragazze Perché così Approfittate anche voi Che ci sono i saldi Su sito fit via Approfittate subito Il codice Come vi ho detto È carditasaldi35 E avrete sconto Su tutto Spese gratis Quindi approfittate E quindi Questo ci tenevo a dirvelo Perché è veramente Un consiglio prezioso Per quanto riguarda Quindi Prodotti Per quanto riguarda La palestra Perché è un'altra cosa Che mi dite È da Più o meno Due o tre settimane Che non sto andando Più in palestra Perché non ce la faccio Perché non ce la faccio più Perché praticamente Anche se faccio una scala Poi diciamo Una cosa soggettiva Però io ho notato Anche se faccio le scale O comunque faccio Una camminata Più a passo svelto Mi affanno Mi viene la tachitardia Mi aumentano i battiti E non voglio rischiare Di sentirmi male Anche perché comunque Soffro anche di pressione bassa Eccetera Quindi ho deciso Di interrompere Ahimè Ho deciso di interrompere La palestra Però sto facendo Cioè in palestra Non sto andando Quindi non sto facendo Più esercizi Eccetera Però sto facendo Comunque Belle camminate E quando riesco Faccio anche esercizi Di stretching Quelli li faccio Mobilità Stretching Con la palla Pilates Queste cose qua Aiutano tantissimo E tante tante camminate Comunque all'aria aperta Quando posso Però Comunque Diciamo che Con l'andare avanti Della gravidanza Adesso inizio a rispondere Perché La prima dice Ecco Di quante settimane sei Quindi vi dico Di quante settimane sono Vi renderete conto Che purtroppo Non ce la fate Anche volendo Ma non ce la fate Proprio fisicamente Quindi là Il momento Io ve lo dissi Cioè dovete vedere voi Quando ce la fate Allora io sono incinta Da 28 settimane E un giorno Quindi praticamente Sono al settimo mese E fra Una Uno o due settimane Dovrei completare Anche il settimo mese E iniziare L'ottavo mese Oh mio dio E veramente C'è un panzone Tra un po' Vi faccio vedere Voglio prima rispondere A quest'altra domanda Che è anche bella Seconda domanda Ah ringrazio La ragazza Che mi ha mandato Questo Baby update Se casomai qualcuna Volesse rispondere Vi metto Qui Vi faccio leggere Ecco Vi faccio leggere Le domande Magari qualche altra Ragazza Youtuber Non so Che magari Vuole rispondere Carino È tipo Un tag Ok Allora Quanto pesa il bambino Allora L'ecografia Io dovrei andare Settimana prossima Fala Proprio fra qualche giorno Quindi L'ultimo update Ce l'ho Però risale Più o meno Un mesetto fa Che non pesava Più o meno Un chilo E già Il dottore Si sbalordì E disse Cavolo Già pesa un chilo Che comunque Già era bello grande Quindi io Vedendo che comunque Nelle ultime settimane Veramente Veramente La pancia Mi è esplosa Penso che Sia comunque Sicuramente Aumentato il peso Ma anche di parecchio Quindi Magari I prossimi Settimani Vi faccio un altro video Vi faccio sapere Preciso Comunque Su Instagram Seguite Sempre perché Sono molto attiva Con le storie Anche sui vari Aggiornamenti In tempo Rapido Però comunque Io potete Secondo me Un chilo e mezzo Sicuro Ma forse anche di più Vabbè Comunque un bufalotto Sicuro Quanto sei ingrassata Allora Argomento dolente Quanto sono ingrassata Peso esattamente 10 kg in più Al peso Che Al peso Di inizio gravidanza Quindi Praticamente Sono ingrassata 10 kg Ho letto un po' Mi sono un po' Informata E il peso Dovrebbe essere Comunque Nella norma In queste Le settimane Che sono io 9 Massimo 10 kg Comunque Sono ancora Nella norma Insomma Non mi posso Ancora lamentare Ovviamente Mi sento Mi sento enorme Perché ovviamente Comunque sono 10 kg di più Però c'è da considerare Il peso Del bambino Della placenta Del seno Cioè a me Sono 3-4 kg Solo di seno Che ho aumentato Quindi comunque Ecco Cioè Chi mi vede E mi incontra Un cavistrada La maggior parte Mi dicono Tutti Stai benissimo È solo pancia È solo pancia Stai benissimo Non sei ingrassata Le braccia Le gambe Stai bene E quindi Dovrebbe essere Tutto frutto Insomma Così si dice E quindi Ok Anche se Comunque Con l'alimentazione Sto sgarrando Comunque Spesso Perché comunque Mi vengono le voglie Eccetera Però Però Comunque Rispetto a prima Prima di essere Cioè Si può dire Che mangio Meno ora Che quando ero incinta Le schifezze Perché Soffrendo di bruciori Di stomaco Tipo Tante Tante schifezze Non le posso mangiare Perché poi sto male Poi le mangio comunque Però Magari prima Non mi trattenevo Se dovevo sgarrare Sgarravo male Adesso dico Vabbè Poi dopo viene il mal di stomaco Una cosa in meno Quindi queste Però comunque Sto mangiando Sto mangiando bene Di tutto Ok Sempre cercando Di mangiare sano Però Sgarro spesso Questo è quanto E voglie particolari Pizza Vabbè Io sempre stata Avanti della pizza Ma in questo video C'è praticamente Mangio pizza Quasi tutti i giorni O che sia una pizzetta O che sia una pizzettina O che sia una pizza O che sia una pizza Comunque Vabbè La pizza È la mia rovina L'amo tantissimo Che poi Vabbè Meglio voglia di pizza Che di Bomba fritta Alla Nutella Voglio dire Che è più sana Però a me la pizza Mi fa anche acidità Perché c'è La salsa di pomodoro Che a me Mi fa tanta acidità Allo stomaco Però comunque Me la mangio Comunque dopo soffro Addio Però voglia di pizza Voglia di Ieri mi è venuta Voglia di Crocchè Arancini Tutte cose fritte Che io Cioè di solito Non sono mai Golosa di queste cose Perché sono sempre Più sul sano Le cose fritte Non sono molto Golosa Ecco Più della La pizza Non Invece Che ne mi è venuta Una voglia esagerata E anche il gelato Anche il gelato Mi viene un sacco Un sacco di voglia Però particolari Fortunatamente no Cioè Che tipo A luna di notte Mentre sto sul divano Voglia di gelato E mi devo andare A comprare il gelato Queste cose qua Però Cose assurde No Finora no No Vabbè Comunque Voglie sempre cose belle Sostanziose Da Carlita Ci sono cose che Prima ma Ed ora Non puoi neanche vedere Se assuramente Si Il pollo Che io prima Se vedete i miei video Cosa mangio Io mangiavo Pollo Ragazzi Ogni giorno Adesso il pollo Mi fa nausea Solo se sento L'odore Il profumo Veramente una cosa Assurda Comunque il pollo Mi fa nausea Cerco di mangiarlo Però tipo Non lo faccio In modi diversi Non sentire il sapore Comunque ne mangio poco Perché Non ce la faccio Veramente Anche solo L'odore Il pensiero Mi fa stare male Mi crea nausea Allora Parto naturale O cesareo Parto naturale Ovviamente Io preferirei Parto naturale Perché comunque Se non ci sono Complicazioni E se va tutto bene Vorrei fare Parto naturale Sia perché comunque Parto naturale Ovviamente Io credo Proprio nella natura Io mi affido Molto alla natura Cioè le cose Come devono andare Infatti quando mi chiedono Parto naturale O cesareo Dico Cosa ne so io Cioè Quello che vuole La natura Quello succederà Cioè nel senso Che mi affido A le cose Come devono andare Se Succede Che devo partire In modo naturale Che tutto va bene Parto sul mondo naturale Ok Se ci sono Complicazioni Se c'è un problema Se non so Per qualsiasi cosa Devi fare il cesareo Fare il cesareo Insomma Questo è quanto Però ovviamente Io preferirei naturale Ma anche perché Come tutte le cose Difficili Complicate Della vita Una sfida Io le voglio fare Perché voglio proprio Provare questa cosa Questo Questo dolore Questa sfida Questa cosa Lo voglio fare Perché È una cosa Che voglio affrontare Voglio comunque Farcela E poi Comunque ho letto L'esperienza Che comunque È bellissimo Oltre al dolore Cioè deve essere Una giornata grandissima Comunque Farlo Perché comunque Anche gli animali Partiscono in modo naturale È bello È bello È bello perché tu Soffri Per mettere a mondo Tuo figlio Quindi deve essere Secondo me Un'emozione Grandissima Che ovviamente Il cesareo Non ti dà Però ovviamente Non ti fa sentire Il dolore del naturale Quindi Io Mi affido alla natura Quello che la natura vuole Io quello farò Ovviamente Se ci sono complicazioni Non mi ostino A voler fare naturale Ma farò Il cesareo Mi affido Alla natura E ai professionisti Quindi ginecologo Stedica Eccetera Avete fatto Farete un corso Preparto Ancora no Ma penso che lo dobbiamo fare Io penso che appena Andremo dal ginecologo Lui sicuramente ci dirà Che dobbiamo fare Il corso Preparto Perché ci siamo Un po' entro nell'ottavo E penso che lo dobbiamo fare Per forza Dare un vera Contenza Alla parto Io spero di sì Allora La mia idea Era quella Che lui venisse con me E mi desse supporto E mi aiutasse E mi Anche per fargli condividere Questo momento Per fargli vivere Questo momento Che secondo me È molto bello Anche per i papà Però praticamente È capitato Che siamo andati In ospedale A trovare Una persona amica E praticamente Lui dopo 5 minuti Si è sbiancato E ha detto Amore io esco Perché mi sto sentendo male Ho detto Oh mio dio Cioè questo deve venire In sala parto con me E ho detto Amore Cioè ci rendiamo conto Eh ho detto Ma io non ce la faccio Comunque vabbè ragazzi Allora Se gli uomini Dovessero fare i figli Credetemi Non si farebbero più figli Cioè Finirebbe il mondo Perché veramente Cioè Io non ho mai trovato Un uomo Che è veramente Coraggioso Di solito Boh Non lo so Com'è sta cosa Sono tutti codardi Sono tutti Però A parte gli scherzi A me piacerebbe Però Penso che lui Si sentirà male Però piacerebbe Speriamo che ce la farà Lui comunque Mi ama tanto Quindi sicuramente Ci troverà A fare il possibile A parte questo È molto 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 Premuroso Mi ha aiuto a fare tutto Anche prima stavo qua Ti aiuto a fare il video Ti prendo le cose Quindi Però Mi rendo conto Che a volte È proprio una situazione Più grande di lui Che questa cosa Di svenire Di stare male Quindi non so Spero di sì Vediamo Vediamo se ce la fa Però spero di sì Insomma sì Fai sogni strani Allora Sogni strani Ho sognato E l'avevo scritto anche su Instagram Ho sognato proprio di partorire E Praticamente ho sognato Non avevo tanto dolore Infatti poi tutte mi hanno detto È solo un sogno Grazie Però Scherzo Ho sognato che ovviamente Era una bimba Praticamente c'era La colletta Questa bimba che era bellissima Bionda Stupenda E Quindi ho sognato Che era una femmina Ovviamente Ovvio Oddio Tutti quanti quando mi vedono Mi dicono Mamma non sembra Dalla pancia Non sembra un maschio Sembra proprio che sia una femmina E io dico Insistete a dire queste cose Perché poi io sono felicissima Ormai da quando ho saputo Che è un maschio Io sono felicissima Quindi ormai Sono felicissima Che un maschio Che Sono Cioè Sarà Tipo un principino Primo figlio Maschio E' bella sta cosa Quindi adesso Cioè sono contenta Quindi maschio Basta Però ho fatto sto sogno Che è comunque strano Sì Questo Io ho una vita Notturna Di sogni Molto molto tranquilla Non faccio sogni Frastornati Sono molto molto serena L'unico problema È per prendere sonno Perché anche se ho sonno Perché la gravedanza Porta sonno Però Avendo mal di stomaco La posizione Dormo con i cuscini Con tanti cuscini E quello è il problema Però Dormo benissimo Quando prendo sonno Dormo benissimo Una meraviglia Avete deciso il nome No Oh mio dio Tutte continuate A chiedermi il nome Sappiamo il nome Del bambino No Cioè praticamente Ancora non sappiamo il nome Cioè tutti quanti Ci chiedono sta cosa Addirittura Mia mamma Mia suocera Che preparano I cappellini Le cose Ma io ci voglio scrivere il nome Sulla copertina Io dico Vabbè Lo scriverete In un secondo momento Il nome Perché noi veramente Non lo sappiamo Cioè io veramente Ci sono tanti nomi belli Ma nessuno che mi colpisce Da dire Sì è questo Ok io lo metto Perché vorrei Un nome particolare Che mi facesse pensare Solo a lui Non comune Però non assurdo Non troppo Insomma Perché comunque Mettere un nome Troppo particolare Potrebbe essere Ridicolo Fra virgolette No Quindi vorrei Un nome Bello Unico Non comune Però insomma Comunque Bello Non troppo particolare Ecco questo e quanto Comunque Mi hanno detto Ah tu puoi all'improvviso Sentirei quel nome E dirai sì Lo chiamerò così Ancora non è successo Spero che succederà Prima Ma non Non escludo Che io possa andare A partolire Senza neanche ancora Sapere il nome Potrebbe succedere Comunque Appena lo saprò Ve lo dirò Non farò comunque Questi misteri Di non dirlo Appena lo saprò Ve lo dirò Quindi non vi preoccupate Spero di avere Le preliminazioni Negli dare di averla Ok Se sì Chi ha avuto l'idea Quindi no Comunque stiamo decidendo insieme Hai delle smagliature Fortunatamente Non ancora Non ho ancora Delle smagliature Però Mi sto curando Tantissimo Vi avevo fatto Il video Quello che Casualmente Ve lo metto qua Nelle schede Appunto Su come prevenire Le smagliature In gravidanza Che poi Questi prodotti Possono essere utilizzati Anche da Da ragazze Non incinte Ma comunque Che fanno una dieta Oppure da chi Magari ha già Sbagliature E vuole Renderle più chiare Ed eliminarle Sono ottimi Quindi Caso mai Guardate quel video Vi volevo consigliare Una cosa Magica Che Nell'altro video Non vi avevo detto Quindi Quindi oltre a quei prodotti Del video Che già ho fatto In cui faccio Il massaggio Sul pancione Eccetera Questo qua È veramente Una bomba Questo è Vitamina E Pura E si chiama Bioolio Mamma e Bimbo È fenomenale E serve Sia per le smagliature Veramente Miracoloso Per prevenire E combattere Quelle già esistenti In gravidanza Anche non E anche per i bimbi Si può mettere Anche Si deve mettere Anche Sui capezzoli Per ammorbidirli Sulla pancia Per le smagliature E anche Quando puoi nascere Il bimbo Si mette Sul culetto Comunque sulla pelle Perché vitamina E Pura È veramente Miracoloso Per le smagliature Per le cicatrici Per qualsiasi problema Irritazione Qualsiasi problema Della pelle Vedete Eccolo qua Vi metto Il link sotto Ok Penso che si veda Lo trovate Su CarlitaShop.com E fa parte Di tutta la linea Mamma Bimbi Su cui stiamo facendo Una promozione Sono veramente Fenomenali Questi frutti Io già me ne sono fornite Adesso ve li faccio vedere Perché sono veramente ottimi Sia per le mamme Che per i bimbi Questo è veramente Fenomenale Proprio Vitamina E Puro Con mandorle dolci Ed è biologico E naturale Quindi questo qua Vi aiuterà Io ve lo metto E lo spruzzo E densissimo Me lo spruzzo Sulla pancia E poi continuo Il massaggio Con quest'olio Che anche vi voglio Consigliare Lo trovate sempre Su caritashow.com Lo sto amando Ragazze Ed è un olio Di mandorle dolci Profumato di mandorle Quindi wow Adoro Già solo questo Me lo fa amare Un profumo stupendo Questo si può usare Sia sul corpo Quindi contro le smagliature Come olio corpo Ma anche sui capelli Per fare degli impacchi Quindi Anche ad esempio Durante la gravidanza Ma anche dopo Che magari i capelli Sono un po' più deboli Per fare degli impacchi Comunque se lo comprate Lo usate per tutto Oggi di mandorle dolci È veramente Il principale ingrediente Contro le smagliature È buonino Ma poi la cosa Che profuma di mandorla E poi la cosa E poi la cosa bella È che ha questo buchino Quindi ne fa uscire Poche quantità La confezione di plastica Sembra di vieto Ma è di plastica Quindi potete Portarvelo dietro È pratico Ragazzi E provatelo È una bomba Lo sto amando Quindi faccio dei massaggi Attualmente con questi due Questo e questo Contro le smagliature Sul seno Dappertutto Top Ragazzi Non ho una smagliatura Vi metto il link Nei box informazione E vi aspetto Su caridashop.com Perché c'è una promo Con il codice BIMBI15 C'è lo sconto Del 15% Tutta la sezione Mamma e bimbi Quindi sul sito Se vedete C'è la categoria Comunque vi lascio Anche il link sotto Ci sono tantissimi prodotti Sia per le mamme Sia per le smagliature Sia per i bimbi Sia per la ritenzione La cellulite Quindi anche se non siete incinte Venite a vedere Ci sono un sacco di prodotti Con questo codice Avrete lo sconto Del 15% Su tutto E vi faccio vedere Questo qua Di quale linea fa parte Che è buonissimo Già mi sono fornita Di tutti i prodotti Per il mio baby Quindi fate anche voi Lo stesso Costano pochissimo Quindi anche senza sconto Costano poco Però in più con lo sconto Pagate ancora di meno Sono biologici naturali E sono ottimi E profumano A differenza di tanti prodotti Per i bimbi Che puzzano Questi profumano E c'è il detergente Cambio pannolino Guardate Poi la cosa bella È che hanno anche Il dispenser Quindi sono molto molto pratici Poi c'è Il biobagnetto Corpo e capelli Con calendula Camomilla Ultra delicato Non irrita gli occhi Eccetera Poi c'è La pasta per il cambio Pannolino Che è ottima Questa L'osso di zinco Camomilla E albicocca Che potete utilizzare Sia a voi Ad esempio Quando vi depilate O per esempio Avete un'irritazione Una puntura D'insetto Sulle gambe Posto depilazione Ma anche per il bimbo Cioè principalmente Nasce come pasta protettiva Per il culetto Però Io la uso anche Per queste cose È veramente L'adoro È un rimedio naturale Essenziale Per me Poi c'è la crema Bio crema Viso lenitiva Viso e corpo È favolosa Questa qua La dovete usare Appunto come crema Lenitiva Idratante sul bimbo Sul viso e sul corpo Ma la uso anche io Questa qua Ad esempio Tipo come dopo sole Come crema Dopo la doccia O tipo magari Metto sia l'olio Che la crema È buonissima È un profumo Proprio bello Sapete il profumo Bello naturale Tipo di bimbi Molto molto buono E poi ci sono Le salviette Che sono veramente Ottime Queste sono salviette Detergenti delicate Con camomilla E calendula Che potete usare Quando dovete pulire Il culetto del bimbo E non potete lavarlo Le manine Ma anche per esempio Per noi Magari per pulirci le mani Oppure per pulire il viso Comunque sono ottime Sono super super delicate E appunto Oltre al codice sconto Che vi ho detto Bimbi15 Su tutta la sezione Quindi venite a vedere Non solo questi prodotti Se prendete Tutti e sei Questi prodotti Della linea Bimbi Appunto Le coccole Si chiamano Le arbi coccole Avrete anche Il regalo La scatola Dove contenere Questi prodotti Quindi potete anche Regalarli Ad esempio Se non è per voi Oppure magari Fare un autoregalo Il regalo La scatola Dove si inseriscono Anche le foto Del bimbo Una cosa molto carina Comunque vi lascio Tutti i link Ne box informazione Sotto E domande C'erano ancora Tre domande Avete già comprato Cose per il piccolo Allora Io ho comprato Solo C'ho solo un cassetto Nel mio amare Perché tra l'altro Noi ci stiamo Anche trasferendo Quindi Comunque Non sarà Questa la nostra casa Quindi praticamente Non abbiamo comprato Ancora Passeggini Cullette Eccetera Non ancora nulla Però Sicuramente Nei prossimi giorni Insomma Nel prossimo periodo Prenderemo delle cose Sicuramente Ve le farò vedere Perché mi chiedete Un sacco di consigli Per queste cose Però ho comprato Tutine Eccetera Queste cose qua Un po' Non tanto Ma un po' Di queste cose qua Tutine Eccetera Queste cose qua Sì E Avete già Il passeggino No Ancora no La cameretta No Ancora no Però ve lo farò vedere Poi infatti Mi ha messo le freccette Questa ragazza Video haul Sì no Videocameretta Sì no Ovviamente sì Vi farò i video Quando sarà il momento Vi farò i video Nel frattempo Cosa dirvi Ah Vi devo far vedere Il pancione Ovviamente Questo compitino I gioielli Ovviamente Sono tutti miei Li trovate sul mio shop online Li abbiamo riforniti Vari collane Vari anelli Bracciali Tutto Perché spesso Mi viene anche chiesto Ah ma dove posso trovarli I gioielli Ovviamente La mia linea di gioielli Che trovate sul mio shop online Invece Il completino Perché anche questo Mi chiedete Mi chiederete sicuramente L'ho preso da Tezenes Che costano pochissimo Sono molto carini E freschi Perché praticamente Non mi va nulla Questi sono molto carini E lo metto sotto la pancia Il pantalone Questo ancora mi va Quindi Quindi ve li consiglio Si usano come pigiama Come copricostume Come Non so Per stare in casa Quello che volete Vedete È veramente diventato enorme Il piercing L'ho tolto da un sacco di tempo Raga Perché praticamente Comunque si stava di lavando Un sacco E questo è il mio pancione Eccomi Ok Questo è il mio pancione Vedete il pantalone Questo qua Abbastanza largo Quindi io me lo metto così Non è prima mano Però me lo metto tipo così È gigante Baby È un porcelluzzo Quindi ragazze Questo è quanto Avete visto tutto Le risposte a tutte le domande Ovviamente se ne avete altre Lasciate nei commenti Io vi mando un bacio grandissimo Vi lascio tutti gli incuti Dei prodotti Le cose che vi ho spiegato Le box informazioni Mi raccomando Guardatevi Aspetto su Instagram Perché sto pubblicando Un sacco di foto Bellissime Della gravidanza Molto romantiche Molto dolci E anche nelle storie Sono sempre molto attiva A darvi consigli A dirvi tutto quello che mi succede Vi mando ancora tanti baci Vi voglio tanto tanto bene Sono felicissima E soprattutto sono felice Di condividere questi momenti con voi Perché veramente mi state dando Un affetto Grandissimo Quindi veramente Grazie Grazie A tutte le zii E gli zii di baby Ciao Al prossimo video Ciao